Ciao, sono Luca Discacciati, investitore e analista finanziario professionista. Con questo video voglio invitarti alla giornata del 10 febbraio 2016 che terremo a Milano. Una giornata appunto dal titolo Analisi e previsioni sui mercati per il 2016. Io insieme ai miei colleghi Mauro Masoni ed Enrico Lanati terremo appunto una giornata di conferenza e di interventi dove appunto parleremo delle previsioni sui mercati finanziari nel 2016. Parleremo un po' di tutto, infatti faremo una panoramica sulle borse mondiali nel 2016, vedremo quali mercati monitorare, vedremo e vi insegneremo, vi spiegheremo come facciamo noi a scovare i titoli più interessanti e poi parleremo anche di Forex e materie prime. Quindi davvero una giornata molto densa di contenuti dove appunto ci concentreremo per cercare e capire quali saranno i trend e gli scenari attesi sui mercati finanziari appunto nel 2016. Dove saremo? A Milano al 4point by Sheraton di Via Gerolamo Cardano 1 sul sito tradingdalvivo.com dove sono in questo momento, potete trovare anche la mappa per appunto raggiungere l'evento, potete trovare il programma e tutto quello che vi serve appunto per iscrivervi. Infatti importantissimo iscrivetevi perché i posti sono limitati e potete appunto iscrivervi dal sito tradingdalvivo.com. Mi raccomando la giornata è una giornata gratuita ma appunto il numero di posti è limitato quindi vi invito a iscrivervi. La giornata sarà gratuita proprio perché è tutto offerto dal broker CMC Markets che appunto metterà anche a disposizione la propria piattaforma con la quale poi andremo appunto a scovare le opportunità per il 2016. Io vi rinnovo l'invito di visitare il sito tradingdalvivo.com e iscrivervi per la giornata del 10 di febbraio. Ci vediamo a Milano!